Va bene ragazzi, allora iniziamo. Ci sono solo sette spettatori ma non fa niente, siamo pochi ma buoni e quindi diamo ufficialmente inizio a questa terza diretta, la sincope. Allora ragazzi, questa volta non mi sono assolutamente preparato nulla. Come vedete qui, praticamente sullo schermo, questa volta non abbiamo le slide che ho preparato per le altre due dirette, ma abbiamo il programma di scrittura musicale che io utilizzo per i miei arrangiamenti e per le mie cose. Quindi praticamente vi voglio spiegare la sincope partendo da zero, dai fondamenti insomma. Quindi chiedetemi tutto quello che non vi è chiaro perché non è un argomento facilissimo. Quello che vi voglio dire però è che è un argomento importantissimo. Io ho fatto, diciamo, una piccola battutina nel posto condiviso su Instagram, su Facebook. A proposito, per gli amici che non sono gli amici di Fingerstyle Your Life su Facebook, vi ricordo di guardare nella descrizione del video. Ci sono i contatti miei personali, la pagina, il canale YouTube, iscrivetevi ovviamente, ci sarà una diretta ogni giovedì, una diretta didattica ovviamente. E praticamente troverete il mio canale Instagram e la mia pagina Facebook e ovviamente il gruppo Facebook. Vi raccomando di iscrivervi perché sul gruppo discuteremo sia degli argomenti che abbiamo parlato durante la diretta, se avete delle domande, ma potete chiedermelo anche nei commenti su YouTube, ma soprattutto faremo dei sondaggi per scegliere gli argomenti da trattare. Ovviamente spazieranno dalla lettura della partitura, come si legge in uno spartito, come si solfegge, solfeggio ritmico, come in questo caso. Parleremo dell'improvvisazione, quindi imbracceremo la chitarra elettrica, per ora abbiamo questa acustica. Insomma, ragazzi, parleremo un po' di tutto. Allora, ragazzi, perché ho fatto la battutina che la sincope in medicina è una cosa brutta, mentre in musica è una cosa di vitale importanza e molto bella? Sì, perché in realtà hanno una cosa in comune, cioè il fatto che la sincope rappresenta un mancamento, ed effettivamente è così, anche e soprattutto in medicina la sincope rappresenta un mancamento. In che senso un mancamento? Noi ci sentiamo proprio mancare il terreno sotto i piedi, ok? Ci sentiamo praticamente sospesi. Musicalmente, come si traduce questo? È molto molto semplice. Voi sapete che quando noi suoniamo abbiamo sempre un tempo che rispettiamo, no? Il nostro caro metronomo. Quindi quando suoniamo ne facciamo tan, 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 tan. Ok, questo tempo lo possiamo, e anzi, lo dobbiamo anche dividere. Ta, 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 ta. Ok, ogni volta che noi atterriamo sul metronomo, cioè ta, 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 ta. Questa cosa ci dà una sensazione di una certa sicurezza, ok? È come se noi salissimo, andassimo su per una scala con la mano su corrimano praticamente e quindi noi ci sentiamo belli saldi, belli fermi. Ok, proviamo per un attimo invece a togliere il nostro terreno da sotto i piedi, quindi praticamente non cadiamo sul battere del metronomo. Avremo questo, lo faccio prima senza e poi con, ascoltate senza. Adesso invece lo sincopo e quindi praticamente sul secondo movimento ogni due movimenti toglierò il battere. Ok, sentite questa sensazione di sospeso. Noi restiamo praticamente sospesi. Ecco, questa sensazione è diciamo difficile da controllare in musica, soprattutto per chi non ha grosse doti ritmiche. Però parlate con uno che non l'ha mai avuta e quindi se lo sviluppate io le possono sviluppare chiunque. Allora, questa sensazione di sospeso è alla base di un fraseggio e di una ritmica interessanti. Vi faccio un esempio. Allora, mettiamo un po' più lento così speriamo di riuscire ad arrivare anche alle orecchie meno esperte. Se io, per esempio, noi oggi non parleremo di improvvisazione. Faccio un esempio con una piccola improvvisazione, un plettro, non ce l'ho, ok. Quindi se io faccio... Vedete? Atterro sempre sul tempo. Ta, 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 ta. Praticamente non succede assolutamente niente. Se io sincopo... Vedete come la frase diventa molto più interessante? Ok, questo ovviamente succede anche con le ritmiche, con tutto quello che praticamente riguarda il nostro pensare, il nostro parlare musicale. Ho notato che il metronomo è iniziato ad andare di nuovo leggermente in ritardo. Provo a riattivarlo. Vedete se per caso mi va di nuovo a tempo. Purtroppo, ragazzi, queste... queste dirette sono rischiosissime. Sì, mi va di nuovo a tempo. Ok, forse sto iniziando a capire come praticamente risolvere questi problemini tecnici. Ok, quindi praticamente, ragazzi, impariamo cosa significa musicalmente questo togliere terreno da sotto i piedi, dare questa sensazione di sospeso, ok? E come si traduce ritmicamente. Allora, abbiamo sempre il nostro caro spartito. Perdonatemi se guardo verso l'alto, ma io ho tutto sul monitor di sopra. Allora, la scorsa settimana abbiamo parlato di come... Ciao Angelo! Abbiamo parlato come praticamente giustificare una battuta di quattro quarti. Quindi, vedete, questa... Dove? Ok. Allora, questa frazione significa che noi, in ogni battuta, le battute sono queste qui, eh, ragazzi, non possiamo mettere più di quattro note che valgono un solo quarto, e infatti ce ne mettiamo quattro. Poi abbiamo detto che possiamo mettere anche otto crome, e cioè, praticamente, le note che valgono un ottavo, la metà di un quarto. Infatti, vedete, possiamo mettere o quattro note da un quarto, quattro semi minime, oppure otto note da un ottavo, cioè otto crome. Musical method significa questo, ragazzi. Utilizzo un accordo facilissimo. Nella prima battuta avremo... E invece nella seconda, ok? Ripeto... One, two, three, four... One, two, three, four... Questo è quello che ci siamo detti l'altra volta, e sulla base di questa piccola, diciamo, conoscenza teorica, abbiamo sviluppato gli esercizi cambiando l'accento, e abbiamo scoperto come otto crome, cioè queste qui, ragazzi, se noi cambiamo l'accento, cambia tutto il modo, tutto quello che esprimiamo in quel momento con la chitarra. sostanzialmente spostiamo quello che è cassa e rullante, perché noi alla fine simuliamo la batteria quando suoniamo. Scusate, non ci dimentichiamo questo, una ritmica sta più o meno bene rispetto a quello che stiamo accompagnando, se noi riusciamo ad immaginare quale è il ritmo di batteria che dobbiamo emulare, ok? Allora, ovviamente vi invito a vedere le due scorse dirette per approfondire questo argomento. Ok, ragazzi, se noi adesso facciamo questa bella cosa qui, allora, per esempio, ecco, leghiamo il secondo e terzo movimento della prima battuta. Allora, avremo questo stavolta. Ok, cosa sto facendo? Niente, è semplicissimo. Sto praticamente, non sto suonando, su terzo movimento. Vedete? Un, due, tre, quattro. Un, due, tre, quattro. Ecco che praticamente, in questo momento sto spostando il mio accento da quello che era il terzo movimento, la terza nota, no? Il terzo movimento, sul secondo. Quindi non avrò ta, 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 ma avrò ta, 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 ta. Ok? Ripeto. Ta, 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 ta. Ok. Tutto questo, fatto ovviamente sulle semi-minime, quindi tutti i tempi che valgono, tutte note che valgono un tempo intero, un movimento intero. Sì, Nicola, fin qui è facilissimo. Tra poco si inizia a complicare. Soprattutto quando spiegheremo le quartine e quindi mischieremo le quartine con la sincope. Vedrete che si fa tutto un po' più difficile. Allora, ma quando noi invece sincopiamo le suddivisioni e quindi le crome, ecco che praticamente ci si apre tutto un mondo un pochettino più complesso. Ragazzi, io ho scritto una sola battuta per comodità, però ovviamente... Io ripeto al loop la battuta. Quindi non vi impressionate, diciamo. Ok. Allora, per esempio, questa qui come sarà? Sarà... Ta, 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 ta. Quindi sarà... Ok. Allora, dato che già so che mi chiederete sulla mano destra, vi dico già che io simulo... Cioè, simulo, faccio sempre il movimento giù-sù, senza mai fermarmi. Quando viene la nota sincopata, semplicemente io non becco le corde. Cioè, faccio... Vado giù senza suonare. Allontano la mano dalla chitarra, quindi... Quindi faccio sempre giù-sù-sù-sù. Ma non suono dove c'è il sincopato. Ok. Come rendere a meglio la sincope? Dobbiamo accentuare di più la nota precedente. Infatti, se voi leggete su internet o su qualche manuale, oppure qualcuno più pignolo potrebbe dire giustamente che la sincope è uno spostamento d'accento. Perché laddove noi prolunghiamo il suono della nota, dobbiamo dare forza e slancio a questa nota per durare, ok, su quella che andrà a coprire, quella legata, quella appunto sincopata. Quindi sarà... Ok. Proviamolo. Ok. Ragazzi, ovviamente mi dilungo un po' di più con gli esempi, perché comunque immaginate che ci seguono anche persone veramente, veramente che sono all'inizio, insomma. Quindi è bene anche per loro che... Su sincopato, quando si va, su, si suona. Allora, Nicola, non è una questione di andare giù e di andare su. Allora, noi abbiamo queste otto crome, ok? Ogni croma... Io sulla prima vado giù. Ciao Giuliano. Sulla seconda vado su. Sulla terza vado giù. Sulla quarta vado su. Giù. Su. Giù. Su. Ok? Quindi vado sempre giù su. Non mi fermo mai. Adesso, cosa abbiamo detto? Che dato che io sto sincopando questa nota, la terza croma, sto sincopando, significa la sto togliendo. No? Abbiamo detto che il sincopato è un mancamento. Ok? Allora, questa nota rappresentava il mio movimento in giù, perché era giù, perché era giù, su, scusatemi, giù, su, giù. Io qui vado giù senza suonare. Quindi farò giù, su, giù, senza suonare, e poi di nuovo su. Ok? Quindi giù, su, giù, su, giù, su, giù, su. Ok, ragazzi, è facilissimo. Nicola, dammi un feedback, se è chiaro questa cosa. Nel frattempo andiamo un po' avanti. Ovviamente, possiamo sincopare anche questa. E quindi a questo punto, chiarissimo, perfetto. Allora, a questo punto avremo ta 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 ta. Cioè praticamente, ragazzi, quasi non atterriamo mai a terra. Atterriamo soltanto sul primo movimento perché abbiamo ta 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 ta. Cioè praticamente solo sul primo movimento abbiamo il battere. Su tutti gli altri abbiamo questo sincopato che ci dà un'eterna sensazione di sospensione. Siamo sospesi, ok? In aria, ovviamente. Ok. Ok, ovviamente le combinazioni ritmiche sono le più disparate, ok? Siamo noi che dobbiamo praticamente, come dire, inventarci questa cosa, però la cosa più importante è che noi impariamo a suonare a tempo sul sincopato. Ed è per questo che adesso inventeremo dei piccoli esercizi assieme e come la scorsa volta vi invito poi magari a farvi un video e a pubblicarli sul gruppo Facebook Fingerside Your Life, così che praticamente da lì può nascere una discussione sul come e sul perché fare più o meno una certa cosa, ok? Ok, adesso mi rendo conto che in diretta, ciao Stefano, potete farmi tutte le domande che volete, ma vi assicuro che tante tante domande vi verranno quando spegniamo la diretta, non ci sono più io a rispondere e vi chiederete ma come mai qui era così, ma Pasquale come ha detto lì, ma perché faceva in questo modo? Quindi, ok, vi invito sempre a restare attivi sul gruppo e a chiedermi sul gruppo ovviamente, oltre nei commenti qui. Allora, inventiamoci un po' di esercizi. Cancelliamo queste legature, ok? Ok, cancelliamo anche queste note. Mettiamoci anche qualche segno di ripetizione. Così da far capire, ragazzi, sto facendo proprio gli esercizi con voi, sapete che significa con voi? Cioè, questo è quello che faccio quando preparo il materiale. Lo stiamo facendo assieme. Ok. Allora, ragazzi, fatemi mettere questo bello zoomato, così che non si vedono le altre note. Perfetto. Allora, abbiamo le nostre belle otto... Io ero in un tuo video che non andava. Stefano, sì, perché prima della diretta faccio sempre le prove. Perché purtroppo ci sono sempre una marea di problemi con queste dirette. Perché finché si tratta di avere soltanto la webcam o il cellulare, è tutto appostissimo. Ma quando poi carico il programmino, le due webcam e il metronomo, purtroppo si intasa il computer, si intasa YouTube, la rete, internet. Insomma, è un bordellino, ragazzi. Allora, facciamo degli esercizi assieme. Queste sono le nostre otto chrome. Abbiamo tutti capito, perché ci ho dedicato due dirette, perché abbiamo otto chrome in quattro movimenti e quindi in quattro quarti. Ok? Quindi andiamo avanti. Proviamo a sincopare, a legare la prima. Ok. E quindi in questo caso avremo Ta 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 ta. Aumentiamo un po', perché altrimenti il perfetto. Ok. Ragazzi, mi aspetto anche da parte vostra un bel video con questa schitarrata, con la sincopi ovviamente. Va bene, grazie Stefano, ci fai compagnia. Io ti sento con la voce a paperino. Elena, spero che solo tu abbia questo problema. Spero che la mia voce non si senta a paperino per tutto il video. Ok, ragazzi. Proviamo adesso a mettere la sincopi qui. Ok? Quindi sarà ta 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 ta. ok benissimo quindi questo è il secondo esercizio ragazzi ovviamente li stiamo facendo assieme quindi non vi impressionate se mi vedete un po' titubante stiamo proprio improvvisando tutto ci tenevo a farli con voi ragazzi perché non avrebbe avuto senso prepararli prima è meglio invece che voi capiate proprio come nascono queste cose io credo che questo è il sistema migliore per farvi capire cosa c'è dietro e cosa c'è dentro invece avere il piatto preparato e pronto secondo me vi porta soltanto tanti dubbi ok adesso proviamo a legare anzi leghiamo sempre questa e stravolta leghiamo praticamente anche l'ultima quindi avremo che questa è legata con la prima capito ragazzi è come se qui ci fosse ecco qui va bene ve l'ho anche ricreato graficamente così che non vi potete proprio lamentare e dire ah no aspettate perché non me l'ha messa perdonatemi un attimo perché me l'ha messa giustamente automaticamente lì programma intelligente ok grazie nicola grazie a te che mi segui ragazzi alla fine sembra una frase fatta ma è vero se non ci siete voi che mi seguite ma questi monologhi da solo che me li faccio a fare anzi se potete condividere ragazzi mi date una grossa mano a crescere quindi allora ragazzi vedete abbiamo la sincope qui sul secondo movimento che sincopa sul terzo quindi leva il terreno al terzo leva il battere al terzo movimento e poi anche il quarto sincopa praticamente sul primo quindi praticamente abbiamo ok ragazzi questo è un po' un pochettino più difficile è caduto qualcosa, non so che cosa ok ragazzi come avete sentito e come avrete notato credo e spero essendo sincopato il quartilevare del quarto movimento col primo io cambio l'accordo con la sincope quindi avrò scusatemi vedete? cambio sincopando cioè avrò sul quarto avrò quindi sul primo qui io partirò in levare ma l'accordo l'ho cambiato qui che ancora sta sincopando questo ok ragazzi ve l'ho detto che sarebbe diventato difficile poi non dite che non ve l'avevo detto quindi voglio vedere fin qui è facile quindi abbiamo vedete? ok adesso ve l'ho fatto vedere benissimo ho cambiato l'accordo che non stavo suonando con la mano destra era ok avete visto? sono atterrato sul battere ok del primo movimento facendo questo non ho suonato perché è sincopato quindi l'accordo è cambiato con la sincope ok ragazzi è questa è un po' più complessa spero veramente che magari rivedendo il video poi però se avete dubbi chiedetemelo adesso Lucia grazie mille grazie posso solo dirti grazie siamo in diretta non mi posso spingere oltre però davvero mi fa piacere allora adesso facciamo ripeto me li sto inventando al momento quindi abbiate un pochettino di pietà allora facciamo ah sì facciamo quello del tutto sospeso ragazzi come vi ho detto prima per fare tutto sospeso però mi sa che quindi praticamente la sincope la cancelliamo da qui ok la mettiamo qui ok allora ragazzi questo è tosto Carmine sono d'accordo con te e soprattutto ti ringrazio per l'ottima lezione ti ringrazio in particolare in modo Carmine perché so che tu non sei alle prime armi quindi se lo dici tu insomma è un complimento grazie mille allora ragazzi qui abbiamo una qui siamo proprio sul tappeto volante di Aladin perdonate il mio umorismo da da buon diciamo terrone va allora quindi qua abbiamo ta 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 praticamente abbiamo tutti atta non atterriamo più abbiamo ta 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 perché da qui ragazzi andiamo direttamente all'uno non mi costringete per favore a scrivere gli esercizi lunghissimi ragazzi da qui dobbiamo sincopare sul primo quindi ve lo faccio a voce ta 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 ok ragazzi è difficilissimo leggo un attimo il commento di Salvatore e poi continuiamo scusa mi permetto perché non inserisci le semi minime tra le due crome visivamente secondo me rende meglio sì Salvatore hai dato un'ottima idea io sono abituato a fare le cose sempre un po' troppo sofisticate e quindi accetto la tua il tuo consiglio proviamo a fare qualche figura ritmica dopo qualche esercizio con le semi minime però non solo semi minime Salvatore altrimenti è troppo semplice perché all'inizio l'abbiamo spiegato e spero che via sia chiaro e sia chiaro anche chi vedrà indifferita proviamo però a mettere le crome e le semi minime così da ok anche se forse Salvatore adesso sta interpretando bene quello che hai detto tu dici di sostituire le semi minime alle crome ok adesso lo facciamo e spieghiamo anche il motivo perché evidentemente tu già mastichi un po' di teoria musicale ma gli altri no e quindi glielo devo far vedere in questo modo ok ragazzi siamo in sospensione totale ta 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 ovviamente non dobbiamo perdere il tempo perché se perdiamo i quattro movimenti ci perdiamo ta 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 altrimenti non sappiamo dove cambiare l'accordo ok sul finale ho commesso un errore ci ho commesso la pennata sull'accordo finale in realtà sarebbe dovuto essere sincopato ok ragazzi come vedete qui praticamente non atterriamo mai siamo sempre in sospensione e ovviamente suoniamo soltanto quando saliamo perché a parte la prima volta che facciamo ta ta cioè qui sul primo movimento dove facciamo ta ta poi il resto noi abbiamo detto che facciamo sempre su giù su giù su giù su giù ok ve le ho dette una alla volta qua e chi non capisce quindi dato che noi sul sincopato non suoniamo quindi qua e giù e non suoniamo qua e giù non suoniamo qua e giù non suoniamo suoniamo sempre su 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 ovviamente mi sto riferendo al verso della mano quindi abbiamo sempre ragazzi metti metteranno più lento così così forse riesco anche a parlare mentre giù su 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 vedete? faccio giù su 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 ta 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 ok? lo facciamo adesso a velocità normale se ci riesco ok stavolta non ho suonato lo sincopato va bene bravissimo Carmine il primo è imbattere tutte le altre in levare allora ragazzi giusto perché l'amico Salvatore ha fatto un'osservazione intelligente e io ve la voglio far vedere allora però fatemi vedere qua il programma dove me lo scrivo va bene perdonate ogni tanto mi scappo un po' di napoletano allora ve la metto qui e ve la sincopo pure ok però stavolta non ho bisogno di dare legatura allora ve la scrivo e ve la spiego ragazzi non vi perdete perché sono argomenti difficili però io confido qualcuno potrebbe dirmi che sono un illuso e invece io ci credo tantissimo tra l'altro io non vi nascondo che la piga che stanno prendendo i blasonatissimi canali su youtube non mi sta piacendo perché oramai tutti quanti fanno non più didattica ma cinema quasi e secondo me si è perso un po' l'obiettivo angelo le prime cioè queste qua le sono entrambe perché questa legatura che vedi vale per il quarto movimento ti ricordi quando prima qui ok era chiuso quando questa era legata praticamente alla prima capito quindi queste due io le devo suonare quindi questo qui vedi evidenziato in ble è l'unico momento in cui io ho il battere dopodiché non ce l'ho più perché questo qui è legato al primo va bene lo metto come prima dai ragazzi non mi fate fare non mi fate cambiare altrimenti ok lo metto come prima ok prima era così va bene angelo allora questo qui il quarto purtroppo vedo che il video va un po' indifferito abbiate pazienza questo qui il quarto è legato col primo vedi questa legatura che viene dal nulla dal niente ok sarebbe la legatura di questo qui del quarto ma questo vale quando la battuta finisce ma quando io inizio non è che posso iniziare con questa legatura eh no non si può fare è impossibile io devo iniziare da questa nota e questa nota io la devo suonare ed è l'unico momento in cui io suonerò il battere punto primo e punto secondo suonerò a scendere verso giù ok è l'unico momento poi è sempre verso l'alto va bene ok grazie del feedback angelo sì scusami se magari ti sono sembrato un po' pedante ma ripeto questo video lo vedranno anche indifferita quindi un tuo dubbio può essere il dubbio di tante altre persone spero tantissime allora ragazzi concentriamoci un attimo perché questa cosa adesso potrà sembrare difficilotta allora la vedete questa seconda battuta la vedete sì che la vedete allora è perfettamente ve la vedo inizio in blé è perfettamente uguale alla prima a questa qui che vi ho evidenziato adesso non cambia assolutamente niente perché ragazzi mi non cambia niente perché cosa abbiamo detto prima fatemi vedere se per caso ce l'ho ah eccole qua allora le vedete fatemi trasformare questa è una bella semiminima non me la trasformo in semiminima la trasformo io lo stesso ok ok allora ragazzi io cosa vi ho detto prima che siamo in quattro quarti abbiamo quattro semiminime queste quattro semiminime le possiamo trasformare in otto crome perché perché la croma vale la metà della semiminima se vale la metà vuol dire ce ne vogliono due per fare una semiminima va bene ragazzi ve lo dico come lo spiego a scuola io ho una pizza se questa pizza la tagli a metà avrò due mezze pizze per avere una pizza intera avrò bisogno di due mezze pizze ok più chiaro di così da buon napoletano l'ho detta pizze invece sui libri di scuola è spiegato con il formaggio ma meglio la pizza infatti capiscono sempre quindi questa è la mia pizza intera queste due notine sono le mie due pizze che messe assieme fanno questa qui ed è per questo che ce ne vogliono due per fare una di questa allora se ce ne vogliono quattro di queste cioè le semiminime quattro vedete per fare una battuta da quattro quarti ce ne vorranno otto di queste per fare una battuta da quattro quarti ok spero che questo sia chiarissimo perché è propedeutico importante per capire quest'altro concetto vedete che queste due sono legate giusto ragazzi quindi vuol dire noi qua non suoniamo la famosa sincope che abbiamo parlato fino adesso ok queste due ragazzi abbiamo detto che assieme valgono come una di queste ok uguale quale prendete prendete quindi vuol dire che io queste due la posso le posso trasformare in una di questa una semiminima e infatti anche queste due le trasformerò in una semiminima eccola qua e anche queste due le trasformerò in una semiminima ok ripeto ho trasformato queste due in una semiminima queste due in un'altra semiminima quindi sono due semiminime e queste altre due in una semiminima e sono tre semiminime eccole qua uno due e tre ok ragazzi spero è difficile però non impossibile se non vi è chiaro qualche passaggio chiedetemi adesso oppure magari ne parliamo sul gruppo facebook oppure lo andate a rivedere con calma si può fare lentissimo lasciando per un attimo il ritmo dopo assolutamente sì per il ritmo penso tu intendi metronomo non accendiamo il metronomo ok allora Stefano io qua avrò ok mi sa che è meglio se te lo spiego ritornando con un'unica battuta ok perfetto allora abbiamo uno due tre e quattro movimenti il quarto è legato col primo va bene qua abbiamo ok che suonato è ok l'ho fatto lentissimo rischiando anche di sembrare un po' un babbeo tutti questi atta col suono Stefano spiegami meglio per favore cosa significa ok ragazzi nel frattempo ritorniamo a noi quindi abbiamo detto che queste due battute sono perfettamente uguali vedete la prima questa qui ve l'evidenzio è uguale a questa cambia solo che queste crome legate io le ho unite in una semiminima così queste due le unite in quest'altra semiminima così queste due le unite in quest'altra semiminima quindi tra questa battuta e questa battuta non cambia niente come ci ha suggerito l'amico Salvatore ho unito le crome in una semiminima così che visivamente era più chiaro non sono tanto d'accordo secondo me è più chiaro con le crome legate però è più corretto come dice Salvatore infatti se voi prendete un libro uno spartito qualsiasi cosa quando c'è una battuta del genere tutta sincopata non è scritta così come ve l'ho scritta io per farvela capire c'è l'ho analizzata l'ho sviscerata per farvela capire ma è scritta così ragazzi perché è questa la versione corretta ok va bene allora ragazzi qui suoniamo Sol maggiore anche su quest'altra Sol maggiore e poi torniamo indietro Re maggiore Re maggiore ok quindi avremo due battute di Sol due battute di Re ok ok benissimo ragazzi allora io penso che vada bene così potete inventarvi degli esercizi anche voi perfettamente come abbiamo fatto assieme durante la diretta prendete un bel pentagramma potete anche scaricare il MuseScore è un programma gratuito open source quindi non sto pubblicizzando niente è un programma gratuito io lo utilizzo questo è un altro programma un programma a pagamento questo ma onestamente per certi versi è anche più facile il MuseScore tra l'altro è anche un bellissimo sito non solo un programma dove potete scaricare gli spartiti diciamo che quando iniziate a capire come scrivere sul pentagramma vi si apre un mondo allora volevo dirvi alcune cose speriamo di ricordarmene tutte la prima è quella di chiedermi sul gruppo se non avete capito qualcosa ne parliamo più approfonditamente vi faccio una diretta apposta per voi lo sapete che do priorità al gruppo scusatemi leggevo sì Angelo per me era più chiaro prima e infatti io sono d'accordo con Angelo per chi non mastica bene questi argomenti è più chiaro come scritto con le crome però Angelo ti dico che ha ragione Salvatore che la forma corretta è quella con le semi minime perché poi ragazzi la musica è un fatto estetico non c'è niente da fare nella musica c'è l'estetica soprattutto in quella classica ciao Vittorio grazie grazie mille sì Carmine hai ragione scusate mi ero perso perché sono un chiacchierone allora metterò il link non su YouTube ragazzi oppure sì magari anche su YouTube ma anche sul sul gruppo il link per scaricare il programma che vi dicevo io vi invito a fare voi degli esercizi inventateveli se volete facciamo un piccolo tutorial una live a parte che esula un po' da questi argomenti su come utilizzare quel programma il music score e vi faccio vedere come inventarvi gli esercizi è facilissimo è facile divertente soprattutto vi appagherà come vi devo dire cioè sarà molto appagante capire questi argomenti e queste cose ok e poi veramente come vi ho detto già nella prima diretta questo è il primo passo per la lettura dello spartito quando queste cose ritmicamente vi saranno chiare leggere uno spartito sarà molto più facile ok e poi vi guiderò io quindi state tranquilli che inizieremo anche il corso di lettura della partitura quindi questa è la prima cosa che vi volevo dire cercate di scaricarvi il programma cercate di inventarveli anche con la matita ragazzi non c'è bisogno di scaricarvi il programma questo era soltanto per fare uno step in più fate qualche video postatemeli sul gruppo sto aspettando ancora i video della scorsetta diretta perché quello potrà essere può essere un buon incentivo un buon inizio per una discussione nel senso di parlare dell'argomento per vedere se più o meno l'avete capito e come anche approfondirlo i suggeritori di serve sì Carmine mi servirebbe il suggeritore un moderatore qualcuno che mi mi fa pubblicità quando quando c'è l'evento mi servirebbe di tutto guarda ma purtroppo qua insomma non mi posso dividere in mille però sì grazie mille ragazzi io per questo voi mi ringraziate ma io sono io che ringrazio voi perché mi seguite perché praticamente date senso a quello che faccio condividete i miei contenuti insomma ragazzi grazie grazie e grazie ancora non smetterò mai di dirvelo allora poi cosa volevo dirvi sì la prossima diretta parleremo del delle quartine e tutto quello che avete sentito oggi che avete percepito come difficile vi assicuro che vi sembrerà difficilissimo ok quindi maggior ragione interagite contattatemi e fatemi sapere se qualcosa non vi è chiaro ragazzi al 90% la prossima diretta sarà mercoledì sera perché giovedì è ponte e praticamente non ci sarò quindi o preparerò un video oppure anticiperemo la diretta e questo lo saprete soltanto dal gruppo fingerstyle your life quindi vi ricordo di iscrivervi al gruppo facebook per chi sta guardando questa diretta indifferita salvatore no la chitarra non è accordata un semitono sopra la chitarra è accordata standard penso proprio penso proprio di sì 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 riconosco le note che sono quelle standard perché a volte faccio accordature strane quindi la domanda era lecita ok ragazzi quindi niente grazie ancora di essere stati con me e praticamente niente vi ricordo di dare un'occhiata ai link in descrizione c'è anche un link dove c'è scritto sostieni le mie lezioni con un contributo paypal ovviamente libero e assolutamente non obbligatorio da quel contributo non dipenderà la mia presenza qui per le dirette e niente vi ricordo di iscrivervi al canale iscrivervi al gruppo seguirmi su instagram seguirmi su facebook e di martelarmi di domande domande vi ricordo che faremo il sondaggio con i prossimi argomenti vi anticipo già che quasi sicuramente sul gruppo vi anticiperò che gli argomenti saranno per chitarra elettrica la prossima volta quindi magari per alcuni anche più appetibile e parleremo di tante 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 cose partiremo veramente dalle cose fondamentali cioè come trovare gli intervalli sul manico fino ad arrivare a passare ovviamente per scale accorde note aggiunte non parleremo però di improvvisazione modale ancora no ma parleremo sicuramente delle pentatoniche le pentatoniche ad 2 ad 6 e parleremo di come utilizzare le pentatoniche diciamo in modo praticamente come devo dire strutturale cioè nel senso speculare cioè utilizzare la stessa pentatonica per più discorsi diversi musicali e parleremo dell'improvvisazione ovviamente ok quindi ragazzi seguitemi grazie mille e ci vediamo alla prossima ciao